intanto voglio ringraziarti personalmente perché se stiamo qui stasera a farci questa chiacchierata è perché sono venuto una sera di nove mesi fa insomma il 7 settembre ero vercelli e dove ti ho conosciuto quindi ci conosciamo da pochissimo e tra una birra e l'altra durante il tuo festival vercelli in bionda mi hai forse ne avevi bevute parecchi perché mi hai confessato questo delitto che stavi per commettere intanto voglio ringraziare il circolo dei lettori di torino e novara per l'ospitalità e ringraziare te per questo bellissimo libro però ecco volevo iniziare con questa notazione insomma un po goliattica che ci ha visto insieme e mi ricordo benissimo quella sera che mi hai detto questo è un libro assurdo voglio scrivere un libro su una balena che è veramente passato per tercelli negli anni 70 e io ti ho guardato un attimo così io ho capito che era un'idea pazzesca geniale ti ringrazio ti ringrazio molto e andò davvero così noi eravamo a vercelli nella libreria in cui io faccio il libraio e tu eri ospite mio della libreria e del festival che era il vercelli in bionda quella sera presentavamo il tuo libro e però per quei casi della vita ho capito che saresti stata la persona giusta forse complici le birre ammettiamolo insomma ho pensato e ho capito che saresti stata la persona giusta per conservare insieme a me questo segreto mio personale cioè il segreto del libro su cui stavo lavorando la storia che stavo scrivendo la storia della balena goliat cioè la storia di una balena che passò anche da vercelli e soprattutto da torino perché questa sera tu mi accompagni nel riportare la balena goliat da dove è partita cioè dalla città di torino alessandro insomma è oltre che un grandissimo libraio è uno scrittore incredibile ed è uno scrittore che ha messo in fila questa questa tripletta della locanda dell'ultima solitudine la granta dell'invisibile e questo nella balena solamente dai titoli facciamo anche vedere guarda io non ce l'ho l'ho letto e già solo da questi tre titoli si capisce che tipo di scrittore sei forse anche che tipo di lettore sei e forse anche che tipo di libraio ed è uno dei motivi per cui questa sera sono felicissimo di essere qui perché questo è un romanzo che racconta la storia di questa balena che ha attraversato l'europa partendo dalla norvegia insomma e fino alla puia in qualche modo no in quanti anni una cifra 30 anni forse eh guarda sì perché la balena goliat che è quest'invenzione folle e geniale di un imprenditore teatrale di torino eh giuseppe erba che va in norvegia compra una balena ma una balena vera un animale da 24 metri 680 quintali lo carica su un camion e lo trasferisce a torino dando poi l'opportunità e il permesso se vogliamo al pubblico di pagare un biglietto e di entrare nel ventre oscuro della balena questa cosa capita nel 1954 ma continuerà la tournée della balena goliat fino agli inizi degli anni 80 poi le notizie si perdono comunque sì una tournée quarantennale beh secondo i registri la balena goliat è stata visitata da 40 milioni di spettatori una cosa incredibile una popolazione intera beh sì e senti in questo romanzo ci sono più o meno diciamo così senza entrare troppo nel tecnico ma due linee narrative una che avviene al presente che racconta la storia secondo me bellissima e molto toccata che mi tocca poi in prima persona tra tra un padre un figlio tra emilio il padre psichiatra famoso che ha come spesso succede in questa mondo in questa vita non ha incontrato incontrato la vendetta degli dèi e quindi perso la memoria e perde continuamente la memoria e deve avere questi posti attaccati un po dappertutto per sapere chi è per sapere che cosa deve fare no per decifrare la realtà in qualche modo e dall'altra parte c'è il figlio cerro che ha questa questo bosco di ricci dici come come i tuoi che sono ostentati i miei che sono e questa storia di questo rapporto fra loro si intreccia invece con andando indietro fino agli anni trenta con diciamo la l'esplosione del del fenomeno del circo barrum no che per sé vale vale il prezzo del tuo libro perché mettere insieme queste due cose è anche di miracoloso sì però però anche in questo caso guarda è stata è stata la realtà come dire ad aiutare la meraviglia della scrittura perché le due storie stanno insieme esattamente come sono state insieme nella realtà cioè l'impresario di teatro che ha portato a torino la balena goliath tra l'altro guarda ho la locandina originale questa è la locandina questa è la locandina originale torino nel 1972 era tappezzata di queste di queste locandine che pubblicizzavano il passaggio della balena goliath insomma l'impresario teatrale che ha quest'idea cioè portare a torino una balena si chiede ma come facciamo a chi chiediamo aiuto e pensa che l'unico modo per portare una balena a torino sia chiedere aiuto alle grandi star ai grandi eroi ai grandi mostri che popolavano il circo barnum e quindi è là che va a cercare qualcuno che possa aiutarlo a portare una balena dalla norvegia a torino e il circo barnum è un altro argomento di quelli di cui io sono follemente innamorato è popolato da uomini mostruosi che però sono in grado di trasformare la proprio la proprio il proprio essere mostro in un magnete di meraviglia sono i congiuranti alla tirannia del normale sono capaci come dire di zoppicare al punto da trasformare quel quella loro andatura claudicante in un balletto cosmico che è magnetico per chi per chi lo sta a guardare e quindi sì le due cose stanno insieme perché le ha messe insieme la realtà nonostante poi altro non facciano che generare meraviglia però è la realtà che ha cucito insieme una storia mostruosa e meravigliosa al tempo stesso e io la cosa che ho pensato per farti capire quanto è coinvolgente la lettura del tuo romanzo è quella di immaginare i miei genitori di fronte a questa balena cioè mi sono chiesto negli anni 70 è passata per roma i miei stavano insieme se l'hanno visto quel volantino per esempio no se hanno avuto la possibilità di andarla a vedere che cosa ha pensato insomma mio padre che cosa ha pensato mia madre e quindi per dirti quanto questa storia mia mia mi ha fatto sentire dentro quello che tu chiami il ventre oscuro della barera che dal mio punto di vista e qui ovviamente mi metto in gioco con tutto me stesso è proprio l'archetipo della letteratura insomma ottobre ho avuto questa fortuna che è una cosa bella secondo me di parlare con lui sepulveda durante una presentazione del suo libro appunto sulla storia di una balena raccontata da lei stessa e lui mi ricordo che disse questa cosa che aveva nuotato con le balene e che le balene percepiscono il il cambio del ritmo del cuore di un uomo di un sub quando le avvicinano e solo se sentono che ha un cuore puro lo fanno avvicinare si fanno guardare nell'occhio gigantesco della balena e sepulveda diceva l'occhio della balena nell'occhio di ogni animale c'è c'è un segno c'è una luce e quello della balena c'è la solitudine abissale insomma ma sono sono molto felice sono molto emozionato da questa tua osservazione e da questo tuo racconto perché la domanda che mi ha spinto in tutta la scrittura è stata proprio quella cioè dove erano i miei genitori quando la balena goliate è passata da torino è passata da novara e se si fossero mai incontrati lì in coda per moby dick era questa l'immagine che avevo di due persone che non si conoscono ma che si incontrano nel baleno dell'incontro con la balena l'amore è un grande baleno e anche il dolore lo è e sono sono quei baleni che ci rendono come dire c'è chi ha tutto se non al baleno che ci sta travolgendo questo è l'amore questo è il dolore e l'immagine che avevo era quella di mio padre e mia madre che si incontrano lì in coda per moby dick e che in qualche modo la mia vita la mia esistenza e le cose che scrivo che racconto che invento fossero figlie di quel baleno cioè di un incontro dinanzi alla balena goliate il romanzo nasce proprio da questo te lo confido e te lo confesso e mi emoziona molto che tu abbia fatto un pensiero molto simile a quello che è stata la molla che che mi ha portato a scrivere il romanzo perché negli anni 80 io sono nato nel 1980 beh tu insomma anche e proprio in quell'anno la balena passava passava da vercelli passava da novara restava in piemonte e quindi e quindi non è escluso che che possa essere successo ma comunque è successo qualcuno si sarà innamorato in coda per moby dick qualcuno avrà trovato la propria anima gemella anche solo per una sera anche solo per un istante anche solo per un baleno lì dinanzi alla balena e poi quello quello che raccontavi dell'occhio della balena del racconto che ti faceva sepulveda è così così l'occhio della balena racconta una gigantesca abissale solitudine perché perché la balena è un animale rivoluzionario è un mammifero respira lo stesso ossigeno che respiriamo io e te se fosse qui con noi potrebbe respirare alla stessa aria che respiriamo noi però però vive vive gli oceani vive gli abissi vive l'acqua vive le solitudini abissali che vivono quegli quegli animali sono che sono sempre fuori luogo che sono sempre fuori posto perché abitano l'abisso ma sono fuori posto perché sono mammiferi respirano l'aria e in aria non ci possono stare perché sono talmente grandi vivono la vita a una scala di dimensioni tale che soltanto l'oceano le può accogliere sono animali straordinari rivoluzionari io li amo molto e quando dicevi quando dicevi che sono l'origine della letteratura è proprio così se tu pensi alla frase che dà origine a tutte le storie cioè in principio era il caos ecco la parola caos significa proprio grande sbadiglio non significa disordine non significa confusione significa grande sbadiglio e a chi può appartenere uno sbadiglio così grande da essere generatore di tutte le storie di tutte le meraviglie di tutti i mostri è lo sbadiglio dell'eviatano è lo sbadiglio del grande mostro marino è lo sbadiglio di moby dick la letteratura nasce così ci vorrebbero un paio d'ore almeno per per raccontarci tutte queste suggestioni c'è una curiosità perché le due storie sono veramente lontanissime come hai fatto a pensarle e mettere insieme e cioè c'è una parte che secondo me è molto oddio perdonami non autobiografica ma insomma intima in questo libro e poi c'è una parte che invece inquadra e racconta il sogno secondo me la letteratura il circo e la balena che fanno tutte le parti dello stesso mondo no c'è un mondo che dal mio punto di vista ovviamente sempre è al di là della soia infatti c'è un bellissimo passaggio proprio a metà del libro in cui la balena viene portata e attraversa una soia come come sempre succede quando si attraversa una soia si cambia stato no in tutti i seri hai perfettamente ragione ti ringrazio molto una domanda bellissima molto precisa e te ne sono grato sì e beh le due storie la storia della balena goliate di herman herman è il baleniere è colui che conduce con sé la balena in ogni dove arrivi la balena a torino a vercelli a novara roma firenze a bologna taranto è sempre herman che la porta con sé e la balena è sia protagonista sia sfondo e lo sfondo che unisce le due le due storie perché la storia che è tutta basata sul rapporto conflittuale padre figlio fra emilio e cerro vive vive sullo sfondo è ritagliata sullo sfondo della balena la balena che diventa mostro marino e la balena che è la balena della memoria del padre emilio memoria che non funziona più come come funzionava quando era uno psichiatra famoso affermato ed era un mostro di bravura è una memoria che perde pezzi è una memoria che si sfilaccia ed è una memoria che si comporta esattamente come una balena che si inabissa che emerge che vola sulle onde la memoria è un grande mostro marino i ricordi riemergono dall abisso così come così come fanno le balene e quindi il nodo che annoda le due storie è proprio il simbolo della balena che è tanta meraviglia e quindi è tanto circo è tanto sono tanto tanta è l'evoluzione creativa e giocosa e gioiosa e luminosa questo è la balena quanto è mostro quanto è apocalisse quanto è memoria sfilacciata e abisso che ingoia ogni cosa le due storie si annodano su questo sul senso simbolico che ha la balena e anche sul senso concreto perché poi nel romanzo una balena c'è per davvero ma infatti è incredibile questa questa sovrapposizione di di realtà e meraviglia e io che sono un forte oppositore della realtà per questo per esempio non scrivo noir ma scrivo thriller e ho diviso il tuo libro no in tante in tanti quadri no come quei post it che dicevi tu e me ne ha messo qualcuno da ogni parte in ogni piccola a parte notazione hai una scrittura deliziosa io sono riuscito a leggere questo libro appuntandomi un sacco di frasi dicendo questa prima o poi gliela gliela rubo e me la aiuto qualche parte certo ne sarei onorato ma è una felicità bellissima insomma una penna incredibile e soprattutto il tono di questo libro che è fiabbesco e contemporaneamente meraviglioso e doloroso e molto romantico è un un gioco di equilibrio incredibile che tu riesci a costruire non solo attraverso le due storie che ci dicevamo quindi quella del circo barrum e quella di cerro ed emilio e di una mamma che non c'è più ma anche appunto con delle piccole istantanee anzi dovrei dire forse delle polaroid quasi di di tantissimi altri personaggi che hanno tutti un rapporto particolare o con la memoria o con la realtà quindi o sono mostri o sono meraviglie o penso entrambe le cose per esempio nel circo barrum ci sono dei personaggi incredibili come sto leggendo degli appunti e come sono preso e tipo appunto i fratelli zacchini oppure per milman e che sono tutte grandi metafore del dell'uomo sull'abisso in qualche modo dell'uomo che vola degli impossibili della di una ton diremmo non è secondo me il tuo libro è letteratura allo stato più più bello più grande io sono rimasto veramente molto colpito ti ringrazio molto ti ringrazio molto e i personaggi del circo barrum che cito sono sono esistiti davvero sono reali sono persone che avremmo potuto incontrare alle quali avremmo potuto stringere la mano bird millman è la più grande funambola degli anni 30 ma è la più grande funambola del mondo dell'universo è la poetessa dell'aria ecco lei che nel 1931 ha tirato un cavo d'acciaio fra due grattacieli a chicago e ci ha ballato sopra per mezz'ora senza protezioni senza reti di sicurezza ha ballato nell'area a 92 metri d'altezza paralizzando la città perché ovviamente centomila persone centomila cittadini di chicago si sono trovati una donna nel 1931 seminuda molto bella e seminuda che ballava sulle loro teste rischiando la vita ad ogni passo e facendolo per per generare meraviglia bird millman teneva spalla stava spalla spalla con la morte ma non per rivaleggiare con la morte ma per generare meraviglia con questo duello pieno di vita e quindi anche pieno di morte e i fratelli zacchini sono un'altra scoperta straordinaria sono italiani prima di tutto sono italiani sono nati in emilia romagna ed mondo che è il primo dei fratelli zacchini soltanto i nomi sono una storia cioè soltanto nominarli significa raccontare una storia perché si chiamano ed mondo hugo con l'h davanti bruno vittoria egle duina ultimo perché a quel punto insomma la mamma avrà detto ultimo e poi è nato definitivo cioè ultimo e definitivo secondo me sono una storia straordinaria all'interno della storia insomma ed mondo è quello che ha molto a che fare con la realtà e con il mostro che che insito nella realtà parteciperà alla seconda guerra mondiale si occuperà lui è un ingegnere balistico ha studiato a bologna si occuperà dei bombardamenti tra l'altro combattendo come dire a fianco dei nazisti e finita la seconda guerra mondiale scapperà insomma fuggirà emigrerà negli stati uniti portando con sé tutti i fratelli e una volta arrivato negli stati uniti comprerà un camion smonterà il rimorchio e ci caricherà sopra un cannone e comincerà a sparare i fratelli hugo bruno vittoria la egle la duina e trasformando quella che era la sua colpa originaria quella di aver partecipato alla seconda guerra mondiale combattendo dal lato sbagliato in un generatore colossale di meraviglia lui sparava i fratelli con un cannone inventando l'uomo proiettile e trasformando la sua colpa nera che sta nel dentro nel dentro in un generatore di meraviglia per gli spettatori e ci sono dei video su youtube dei fratelli zacchini che sono che sono incredibili e io io li amo molto amo moltissimo bird milman amo moltissimi fratelli zacchini amo moltissimo l'uomo elefante che è un lottatore colossale deforme che però sa cos'è l'amore è un rozzo maschilista è uno che tocca allunga le mani su quante più donne gli capitino a tiro però poi quando parla è un poeta è un filosofo è un attento conoscitore dell'amore dei sentimenti umani e io vado pazzo per questi per questi uomini che sanno anche di essere mostri che riconoscono il proprio lato mostruoso e in qualche modo lo trasformano in un generatore di meraviglia mi piacciono molto sono te lo dicevo prima sono i congiuranti alla tirannia del normale sono tutto ciò che non è conforme tutto ciò che non è conformismo è deformismo loro deformano in meraviglia tutto ciò che invece in qualche modo sarebbe quasi più logico conformare a una vita piatta e reale però guarda lo diceva anche Woody Allen cioè la realtà è un posto schifoso ma trovami tu un altro posto in cui puoi mangiare una bistecca a volte la realtà è il posto migliore che ci può capitare questo nel tuo libro è diciamo che si trova su una bella altalena perché è un continuo fare su e giù tra tra l'essere e l'immaginare e questa è la sensazione che mi che mi lascia addosso il nella balena è un libro che di cui probabilmente non ricorderò ogni singolo passaggio personaggio a cui mi rimane assolutamente in testa nell'orecchio il rumore direbbe qualcuno sottile della prosa e questo bellissimo colore di fondo che è un turchese secondo me e io insomma già oggi avrò mandato una quindicina di messaggi che no chiedendo implorando di leggerlo perché è un libro che che ti che ti fa male che ti sposta ecco questo è questo secondo me stiamo parlando di letteratura perché è un libro che che ti 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 sposta rispetto alla normalità ti dà un sguardo obbligo sulle cose quindi ovviamente il mostro della di una ton l'impossibile la meraviglia la movimento del cielo dei abissi è un simbolo ma insomma aspetta che scusa sto vedendo che ci sono un sacco di persone che ci salutano magari proviamo sì sì certo volentieri volentieri sono poi domande molto volentieri anche perché da quello che ho capito alle sette un quarto c'è c'è forse l'aperitivo quindi dobbiamo salutare ma sai io qualcuno ogni tanto mi chiede qualcuno ogni tanto mi chiede come come si può come come è pensabile seguire la via della meraviglia e beh prima di tutto io penso che che sia impossibile non farlo cioè se non seguiamo la via della meraviglia beh viviamo una vita che ha poco a che fare con la vita perché la vita balena meraviglia in ogni dove la vita la nasconde cioè nasconde la propria meraviglia nel baleno che ci che ci investe nei luoghi e nei posti più impensati e però più frequenti però d'altra parte sarebbe un errore considerare la meraviglia come una via che non porta con sé la spina del mostro la meraviglia ce l'ha sempre con sé la spina del mostro un po' perché la differenza fra ciò che è meraviglioso e ciò che è mostruoso a me per esempio non è molto chiara cioè ciò che è meraviglioso è anche contemporaneamente mostruoso e il mostro è anche sempre una grande meraviglia e quindi le due cose inevitabilmente stanno insieme mostro e meraviglia poi mostro e tu lo sai benissimo mostro significa prodigio mostro è davvero un segno divino e come si può non essere innamorati del mostro e come si può non considerare la meraviglia che abita il mostro questa è un'altra cosa che ci siamo detti a settembre quando ci siamo visti cioè io per esempio adesso lo posso raccontare insomma poi crescendo magari qualcuno di noi vive una vita romantica e quando si perde a guardare il mare immagina che che un tramonto sia sinonimo di qualcosa che ha a che fare con l'amore però io per anni il mare l'ho guardato per cercarci mostri cioè il mare lo guardavo per quello perché speravo che emergesse un gigantesco mostro marino e poi poi ci costruiamo come dire una figura romantica lo sguardo indaga l'orizzonte in cerca d'amore in cerca di stupore in cerca di bellezza però secondo me quella è una consapevolezza è un'acquisizione inizialmente noi guardiamo l'abisso guardiamo l'orizzonte guardiamo il mare perché cerchiamo i mostri perché vogliamo vedere il mostro la domanda che mi viene perché è una delle cose su cui ragiono da sempre ovviamente da quando scrivo di più e perché cerchiamo il mostro e cioè perché cerchiamo young direbbe il mistero il senso di tutto è cercare il mistero che ci abitano arrivare al mistero in realtà è nel movimento di ricerca del mistero il mistero stesso il mostro lo è in assoluto e perché è un'ibridazione di forme perché è sconosciuto la normalità perché è contemporaneamente con noi dentro di noi e lontano in un'altra galassia o in un altro abisso questo è un tema che ovviamente poi l'analisi ha trattato tantissimo e io te ci siamo divertiti adesso però è una cosa molto bella che tra l'altro viene fuori benissimo soprattutto nel rapporto tra il padre e il figlio dal punto di vista intimo e umano e invece nella parte al passato quella degli anni 30 e poi avanti in america viene fuori nella nella constatazione di come i mostri tra virgolette vedono noi cioè vedono la realtà la normalità eccetera io non so se tu hai previsto pensato di leggere qualche cosa ma mi sono appuntato c'è una pagina che mi è piaciuta moltissimo io adesso ho problemi con l'ebook però ti chiederei di leggerla se possibile che pagina 49 che la presentazione e la descrizione dell'uomo elefante che forse il personaggio che ho amato di più certo molto volentieri saluto mentre tu cerchi saluto alessandra wilma giuseppe loredana rina donatella michaela antonello loredana sabrina grazie mille grazie mille grazie grazie anche anche da parte mia sì guarda ti leggo sì ti leggo dieci righe sull'uomo elefante poi al limite lo raccontiamo anche anche l'uomo elefante personaggio che io amo molto siamo ovviamente al circo barnum perché soltanto lì puoi trovare l'uomo elefante l'uomo elefante certe mattine solleva i corpi delle acrobate bulgare come un ciliegio si addobba di frutti alcune gli pendono dai bicipiti e sollevano le gambe tendono le braccia all'insù come nidi aggrappati alla rupe altre gli dondolano addosso stringendogli le spalle o il collo robusto in altalena e poi qualcuna più audace gli si arrampica fin sopra la testa per farsi polena di quel grande vascello di muscoli che l'uomo elefante lui le tiene sparse addosso come un vestito leggero le raggruppa a piramide e quando sono in formazione lì tutte sulla sua schiena gigante allora resta in equilibrio su una gamba sola fa come gli alberi herman il figlio del circo gli fa d'assistente e quando lo guarda allenarsi sollevare bilancieri fare flessioni saltare la corda con i sacchi di calce da 50 kg sulle spalle non gli sembra neppure un essere umano gli orchi sono forti così i troll certi eroi fragili solo per un tallone quando quando fa scendere le acrobate le manda via con uno schiaffetto sul culo e gli grida sciò via gallinelle perché anche così l'uomo elefante è anche osceno maschilista volgare odioso poi però parla e sembra un poeta meraviglioso te lo dico perché oggi l'ho letto e l'ho riletto questo passaggio e insomma mi sono rimasto perché tra l'altro c'è un gioco di allitterazioni fantastico che mi da proprio la misura del tuo orecchio insomma della penna ci sono un sacco di endegasillabi ficcati lì dentro ed è no e mi piacerebbe averlo scritto veramente ed è lui è il mio personaggio diciamo preferito da parte dei mostri certo sì lo amo molto anch'io dice una cosa interessante sui mostri un uomo elefante dice quando il principe arriva e si innamora della principessa beh quello è un accidente un caso il principe il cavaliere è lì per affrontare il drago la principessa non gliene frega niente non sa niente della principessa lui nel castello c'è entrato per sconfiggere il drago poi una volta sconfitto il drago si è accorto che c'è una principessa bellissima e se ne è innamorato ma l'amore viene dopo prima viene la lotta anzi l'amore è soltanto un'altra forma di lotta dice l'uomo elefante che è un grande lottatore ed è anche un grande amatore senza dubbio sentiti ti leggo un'altra frase che mi ha colpito perché mi riguarda direttamente riguarda ovviamente chiunque secondo me scriva quando i fratelli zacchini nel 16 luglio del 56 chiude il circo barnum la simbolica è come se chiudesse o si chiudessero i libri per per come la vedo io e questi due fratelli zacchini perché vengono sparati per un'ultima volta dal cannone stendono questo questo telo su cui c'è scritto un'era magica scompare dove abiterà adesso il vostro stupore e questa che è una domanda terribile e meravigliosa come i tuoi mostri in realtà l'ho messa insieme a un un'altra cosa cioè il fatto che tu sei riuscito ad inserire un'idea quella di di queste schegge non voglio entrare troppo nello specifico ma certo 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 cioè diciamo che la meraviglia si è trasformata in in un altro tipo di nella meraviglia dell'algoritmo eh sì è beh una domanda molto bella molto molto raffinata il circo barnum chiude davvero così chiude nel 1956 e quello che io cito certo è una mia riflessione cioè chiuso il circo barnum chiuso quel circo barnum dove abiterà adesso il vostro stupore dove lo farete abitare e poi il circo barnum in realtà riaprirà ma sarà un'altra cosa sarà il circo degli anni 80 del circo degli anni 90 il circo recente circo il fatto di animali di domatori di leoni sono un circo che mi affascina che mi interessa meno a me interessa molto di più il circo fatto di uomini il circo fatto di mostri il circo fatto di acrobati l'amore l'amore è un grande esercizio circense ecco a me interessa il circo dell'amore il circo della vita eh però sì se chiude il circo barnum dove abiterà il vostro stupore e oggi quando ce lo chiediamo beh facciamo fatica a darci una risposta tu facevi riferimento a Matteo che è un altro dei personaggi dei protagonisti eh che vive la storia che vive la radice eh del romanzo ambientato ai giorni nostri ambientato nel 2020 che lui sogna di inserire eh una scheggia neurale nel proprio cervello in modo tale da poter eh accedere alla rete non con un computer non con uno smartphone ma direttamente dal dal cervello e di poter mandare le mail soltanto pensando eh di di scriverle di poter telefonare fare una videochiamata soltanto pensando di farlo ecco e questo tipo di meraviglia tecnologica eh è una meraviglia senz'altro che però come l'impressione contenga molto più mostro di quanto non sia mostro un uomo mostruoso eh beh se tu pensi la la tecnologia come dire agli uomini viene regalata da Prometeo e e Prometeo viene incatenato dagli dei eh ferma gli uomini devono tenere bloccata la tecnologia una rupe altrimenti la tecnologia in qualche modo eh li renderà schiavi e invece gli uomini scatenano Prometeo scatenano la tecnologia e poi quello che succede beh lo vediamo anche oggi insomma è meraviglioso da un certo punto di vista perché io e te stiamo chiacchierando eh a distanza di seicento chilometri però è anche mostruoso perché noi il nostro rapporto così è talmente mediato che io non posso abbracciarti non posso stringerti eh non posso sentire la tua presenza se non immaginando eh così che sia mediata da questi monitor affiancati. Beh perdiamo una dimensione e secondo me nella nella domanda appunto dei fratelli Zacchini no dove abiterà adesso il vostro stupore c'è anche sottintesa un'altra domanda cioè dove abiterà la vostra parte mostruosa adesso che è quello di cui si faceva carico il circo Barnum no svelare una parte che ci appartiene e che in una percentuale magari bassissima no a chi a chi appunto andava a vedere questi spettacoli cioè io sono convinto che guardare scrutare il mare come dicevi tu in cerca del mostro voglia dire guardarsi dentro e cercare la paura cercare sì il buio il buio il buio è sempre un modo che abbiamo di trovare noi stessi il buio è il modo che 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 il mondo ha di farci chiudere gli occhi che senso ha tenere gli occhi aperti quando il buio è totale il buio è lo sguardo che noi come dire che noi generiamo su noi stessi e quindi stare nel ventre oscuro della balena oppure guardare un mostro significa stare al buio e guardarci dentro e capire non non tanto perché ci fa paura il mostro in sé ma perché ci affascina il mostro in me il mostro in noi ma se fai caso insomma e guardare nell'abisso scrutare come dici tu nel buio è la paura più grande che abbiamo sin da piccoli ed è anche il modo più autentico per capire chi siamo cioè solo al buio solo cercando sotto diciamo il nostro letto in quello spazio che c'è ma alle paure no al buio appunto possiamo in qualche modo sceglierci il nostro mostro certo è così è così è così è un'altra domanda che mi riguarda anche questa perché poi alla fine faccio finta che sia un dialogo fra due scrittori ci sono molti molti riferimenti storici degli anni 30 degli anni 50 ce n'è uno che 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 mi ha colpito e che diciamo che c'è in questo 1954 che torna continuamente no perché l'anno in cui ovviamente nermann va a prendere la valena in norvegia è quella poi una scena che ci devi raccontare e c'è anche e anche il giorno questo mi riguarda della finale Germania Ungheria che l'Ungheria perse incredibilmente 3 a 2 dopo aver vinto 8 a 3 con la Germania nelle qualificazioni chiudo la parentesi biografica questo era per dire quanto tempo e come hai studiato quella era l'Ungheria degli invincibili credo 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 che su 54 partite ne abbia persa una quella finale maledetta forse forse anche c'è qualche sospetto c'è qualche sospetto c'è qualche sospetto l'Ungheria lì era andata a vincere a Wembley no dove il tempio degli inglesi dove non ho mai perso aveva fatto sei gol all'Inghilterra era proprio un altro mondo e anche se non l'ho conosciuto ovviamente da poi da racconti da mio padre qualche cosa qualche cosa mi è arrivato come hai fatto a mettere a infilare tante perle e soprattutto come quanto quanto hai studiato quanto ci hai messo per scrivere un libro del genere ci avrei messo 5 anni io ci ho messo tanto ci ho messo tanto e soprattutto ci ho messo tanto a capirlo quel 1954 perché quel 1954 è l'anno il primo anno in cui la balena Goliath parte dalla Norvegia caricata su un camion e raggiunge Torino che mi sembra una cosa incredibile totalmente inverosimile eppure vera cioè Herman e Giuseppe Erba davvero hanno portato una balena su un camion dalla Norvegia a Torino e mentre questa cosa totalmente inverosimile ma vera capitava che mondo era cosa accadeva e allora non so è l'anno in cui Ernest Hemingway vince il premio Nobel per la letteratura e l'anno prima come dire cioè Ernest Hemingway era scritto anche in quell'anno il vecchio e il mare cioè era succedono cose pazzesche che che in qualche modo si riflettono ancora oggi c'è la finale dei mondiali a cui hai fatto riferimento tu la televisione comincia comincia ad arrivare negli Stati Uniti anzi invece è già arrivata già sta dettando una nuova legge è stato è stato impressionante cercare di capire che anno era l'anno in cui non era inverosimile vedere una balena sulle Alpi perché il riferimento anche tu prima facevi riferimento allo sconfinamento allo sdoganamento a un certo punto la balena Goliath passa dalla dogana svizzera passa prima per entrare in svizzera e poi per uscire dalla svizzera per entrare in in Italia e non era non era falso anzi era vero era reale che sulle Alpi a 2000 metri d'altezza ci fosse una balena da 24 metri questo era il 1954 o meglio questo è uno degli episodi che hanno reso nel mio romanzo il 1954 un anno un anno incredibile un anno magico senza dubbio e guarda quella scena secondo me da un punto di vista proprio narrativo l'invenzione che nemmeno è poi l'invenzione perché io ho andato a vederla c'è questa questo questa commistione proprio nel punto di passaggio tra la svizzera che è un luogo diciamo scherzo e l'Italia c'è questo passaggio di questo gigantesco camion che porta questo mostro degli abissi e i doganieri si ritrovano di fronte a un dilemma no? I doganieri si ritrovano di fronte a un grande dilemma cioè nel 1954 in svizzera è proibito importare balene intere cioè carne di balena volendo in svizzera ci può anche entrare ma una balena intera non è non è pensabile che possa entrare in svizzera e quando Giuseppe Erba e Derman arrivano in dogana beh rimangono basiti ma come possono questi aver concepito una legge un decreto doganale che prevede il blocco alla dogana di balene intere ma chi poteva pensare di portare una balena a duemila metri in dogana ed è Erman però che è nato al circo Barnum che è fatto di circo che non conosce nessun confine nemmeno il confine fra ciò che è vivo e ciò che è morto dice beh ma non c'è nessun problema la balena può passare perché la balena Goliath è viva e ora lo mostriamo e con un numero da circo pazzesco dimostrano che la balena Goliath è viva e quindi il decreto il decreto svizzero proibiva che passassero balene morte perché era impensabile che potessero passare balene vive da una da duemila metri della dogana svizzera e invece loro presentando la balena viva è viva perché è viva della vita di Erman è viva della vita del suo baleniere è viva della vita di colui che sta portando la balena sulle spalle e quindi non possono far altro che farla passare cercano sui dazi doganali quanto può costare 680 quintali di pesce esotico ma non trovano nulla non hanno possibilità di fermarla e la balena sconfina così come sconfina Erman perché Erman in quel momento rompe ogni argine e ogni distinzione non sai più chi è la balena non sai più chi è Erman non sai più non sai più cos'è reale non sai più qual è il tipo d'amore che lega l'uomo alla balena sì sì è così è così diventa tutto sogno onirico qualcosa si scolla e quando qualcosa si scolla inevitabilmente si incolla da un'altra parte e la vita di Erman si incolla alla vita della balena pensavo a questa cosa che stai dicendo della della vita dell'energia vitale che passano dal sognante al sognato detto in maniera molto grossolana mi veniva in mente ovviamente la metafora della scrittura ma mi viene in mente il Frankenstein di Mary Shelley in cui si prende una cosa che 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 è un mostro che è una commissione di pezzi si rimette insieme si anima di che cosa di un'energia che sta altrove la trova essere quello della terra no e e quindi niente secondo me quella scena lì è veramente molto molto forte scritta da dio ma soprattutto è una scena in cui si balla tra la realtà la realtà era in realtà e alla fine sei lì che tifi perché passi questa balena e arrivi finalmente da noi no è così è così io guarda ogni tanto mi capita ogni ogni tanto mi capita di incontrare qualcuno che ha visitato la balena Goliath magari perché ha letto il libro magari perché io ho chiesto testimonianza chi poteva avere avuto occasione di vederla e quello che mi capita di di vedere nella reazione della persona che mi racconta l'incontro con la balena Goliath è come dire una reazione cioè mi ringrazia mi dice grazie perché io ero convinto di essermela sognata io non ero più sicuro che fosse reale non ero più sicuro di essere stato a vedere una balena in piazza a Torino in piazza a Vercelli ero convinto come dire che ero quel ricordo era aveva sconfinato i territori del sogno ero avevo pensato di essermelo sognato che non fosse vero e invece è vero è andata esattamente così e tornano come dire ringraziandomi di aver reso loro un ricordo o meglio di aver trasformato quello che loro pensavano fosse ormai un sogno in un ricordo di vita vissuta ed è per me è sorprendente tutte le volte che incontro qualcuno che che ha visto la balena Goliath è per me è un dono è davvero una meraviglia è il segno che la meraviglia la lascia nel nella realtà nel reale nella vita nostra come cambia la vita tua mia nostra se incontri una balena se passi un pomeriggio nel ventre della balena io non posso credere che la tua vita non cambi qualcosa viene inevitabilmente modificato per sempre da dall'incontro con una balena io starei a ascoltarti e soprattutto a approfondire approfondire la parola giusta il sì perché c'è c'è tutto secondo me è veramente il cuore del discorso di qualunque discorso letterario passa attraverso questo questo simbolo questa questa grande figura ancestrale ma soprattutto ecco e questo lo consiglio veramente con tutto il cuore attraverso il tuo libro perché è un libro di uno di quei libri che per quello che mi riguarda vuole e ha bisogno di una rilettura e quindi è un libro che che va ascoltato va compreso comprendere cioè va fatto fatto proprio un pezzettino per volta e niente non ci dimentichiamo appunto della 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 meraviglia come diceva marino del poeta al fin la meraviglia bisogna avercela questa questa voglia qui ci abbiamo notti qua c'è Pinocchio e qui troviamo la balena infatti non è stata fatta apposta questo si può dire sinceramente ma insomma nel tuo libro c'è anche qualcosa che riguarda riferimenti evidenti importanti non solo a collodi ma alla trasformazione del figlio e alla paternità è un libro veramente incredibile io sono felicissimo di essere qua con te ho solo paura che il tempo sia tirato beh io ti ringrazio moltissimo per me è stato davvero un onore un piacere e sei stato baleniere splendido lo sapevo in qualche modo in qualche modo il baleno e la balena ci unisce ci fa simili fratelli non è un caso nel senso di casualità ma è un destino nel senso greco del termine cioè sto qui adesso l'eternità del destino io sono convinto che che ci siamo incontrati per parlare di baleni e sono convinto che ci rincontreremo presto per continuare a saluto te assolutamente comprate leggete leggete il libro di alessandro barbaia nella balena mondatori ringrazio il circo di lettori di torino e di novara e vi abbraccio un abbraccio grande a te ciao mirco davvero straordinario grazie ciao